Il settore non profit è sempre più vitale e dinamico. Sapevate che contribuisce alla formazione del PIL per il 5%? Quindi ha un valore economico importante. Certo, ma non solo. Per capire il valore delle istituzioni non profit è necessario andare oltre la dimensione prettamente economica e considerare le modalità con cui il settore agisce nella nostra società, la dimensione relazionale che genera e i valori che diffonde, valori di solidarietà e di supporto alle categorie deboli o in difficoltà. Qual è l'impatto del settore non profit sulla società? Il settore non profit dà risposta a diversi bisogni sociali della popolazione e genera coesione sociale perché svolge una funzione di collante per la società. La vocazione altruistica che trova riscontro nell'attenzione verso categorie disagiate genera integrazione, inclusione sociale, in una parola fiducia. Come riesce a fare tutto questo? Grazie al volontariato, al coinvolgimento attivo dei cittadini e ai lavoratori delle organizzazioni che sono la vera linfa vitale che supporta le comunità nell'affrontare le sfide e difficoltà che di volta in volta si presentano, come la pandemia da Covid-19 per esempio, ma non solo. Il censimento ci darà informazioni sul non profit in relazione a pandemia e disagio? Sì, il questionario rileva informazioni riguardo alle categorie di disagio verso le quali le istituzioni non profit erogano servizi sui territori. Inoltre il censimento ci darà informazioni su come sono cambiate queste attività a causa della pandemia. In sintesi, perché è importante il censimento? Perché è importante il non profit. Il non profit è un agente di una concreta inclusione sociale, unisce le generazioni e ne rinsalda i legami.